Ha preso il via a Limassol, l'isola di Cipro, la terza edizione dei giochi dei piccoli stati d'Europa, autentica mini-olimpiade. Dopo San Marino 85 e Monaco 87, l'ormai tradizionale rassegna dedicata agli otto stati d'Europa, con meno di un milione di abitanti, fa tappa nell'isola di Cipro. Una suggestiva cerimonia in perfetto stile classico, celebrata nel tempio di Curion, nel sud dell'isola, ha aperto ufficialmente la manifestazione. 22 giovani fanciulle cipriote hanno ricostruito perfettamente, sui modelli dell'antica Grecia, la cerimonia d'apertura. Che si è conclusa con la tradizionale corsa del tedoforo, per la verità adeguata alla grandezza della competizione, 16 km da Curion a Limassol. 470 le medaglie in palio, a contendersi le élite del microcontinente, Andorra, Cipro, Lussemburgo, Malta, Monaco, Islanda, Liechtenstein e San Marino. In quattro giorni, da oggi a domenica, i 900 partecipanti si cimenteranno in nuove discipline, atletica, nuoto, basket, pallavolo, judo, ciclismo, tennis, tiro e vela. Grande favorita all'Islanda, che nelle due precedenti edizioni ha collezionato 48 medaglie d'oro.